Guardate che duo, un duo che sta facendo faville nel campionato di A3 di pallavolo maschile, però insomma stiamo parlando di una società ormai storica nel panorama regionale. Labba Pineto, presidente Abbondanza, il vicepresidente è una new entry, diciamo così, Marcacci, se non vado errato, vero? Sì, Francesco Marcacci. Francesco Marcacci, tra poco vengo da lei. Presidente, non si può che vince. Sì, incrociamo le dita, come dire, gli scongiuri sono d'obbligo, però il campionato è molto lungo, un campionato, come dicevo appunto, lungo, ma soprattutto è un campionato che riparte poi con la fase dei play-off, quindi chiusa la regular season, che sarà già di per sé un campionato lungo, poi ci sarà un altro campionato e quindi bisogna arrivare poi nella seconda fase, nella fase finale, bisogna arrivare veramente con una preparazione atletica e fisica importante. Per adesso ci godiamo questo primo posto, anche perché la squadra sta facendo molto bene e quindi non possiamo che in questo momento, come dire, gongolare e poi, come dire, se son rose fioriranno. Assolutamente, un primato condiviso con altre due squadre, Galatina e Grottazzolina, però Labba Pineto, vicepresidente Marcacci, davvero sta facendo cose eccezionali. Nove vittorie consecutive, ha perso solo due set in questo lasso di tempo. Complimenti. Sì, come hai appena detto, effettivamente sono nove gare vinte da seguito, dal 2020 fino ad oggi. Quest'anno abbiamo fatto due gare e niente, stiamo facendo veramente bene. Come ha detto il presidente Abbondanza, dobbiamo essere molto concentrati, perché questa oramai è una prima fase che ci porterà a fare veramente la gara che dobbiamo andarci a fare per poter raggiungere l'obiettivo. Italiano, ma anche venezuelano, perché me l'ha detto Pocazzi, quindi c'è questo sangue caliente che serve soprattutto per le discipline sportive. Esatto. E sa sì che le diamo la garra. Una garra che è imprescindibile in tutte le attività della vita, specialmente nello sport, no? Sì, sì, effettivamente. Addirittura abbiamo due italo-argentini, questo è molto presente in questa squadra, molta garra. Questo è fondamentale. Presidente, chiudiamo dicendo che questa settimana, diciamo così, vi riposate, tra virgolette, poi si ricomincerà e si andrà avanti tutto d'un fiato fino alla fine? Sì, adesso sinceramente anche questo stop arriva in un momento in cui da un lato, per come stavamo in condizione, forse era meglio continuare a giocare. Però cogliamo l'occasione per recuperare alcuni ragazzi che erano un po' acciaccati e quindi, come dire, facciamo di virtù quello che adesso abbiamo e quindi cogliamo l'occasione appunto per tirare il fiato e ripartire più forti con la gara con Toscagna che sarà un altro big match. In programma il 7 febbraio e poi ci sarà un altro turno interno contro Roma. Grazie al Presidente Abbondanza, grazie alla New Entry, abbiamo detto, alla Vice Presidente Marcacci, ma lei non è neofita della disciplina? No, assolutamente. Un appassionato e anche ho stato un giocatore nel liceo. È arrivato che già aveva una infarinatura importante e quindi abbiamo dovuto spiegare poche cose, già sapeva. Grazie ad entrambi in bocca al lupo. Lunga vita al lupo. Crepa. Grazie a tutti.